Allora, questa settimana ci occupiamo dell'argomento che avevo già rapidamente accennato alla fine della settimana scorsa, cioè la progettazione e la realizzazione di funzioni all'interno dei nostri programmi. Che cosa sia una funzione? In qualche modo già lo sappiamo, nel senso che fin dalla prima lezione abbiamo iniziato a utilizzare alcune funzioni, la print, per dirne una, l'abbiamo usata moltissimo, ma poi ci sono le funzioni matematiche, le logici quadrate, il valore assoluto, l'arrotondamento, la funzione input, sono tutte funzioni che noi utilizziamo, abbiamo utilizzato e le riconosciamo perché chiaramente hanno un nome con cui sono definite e una serie di parametri, magari alcune funzioni non hanno bisogno di alcun parametro, altre hanno bisogno di un parametro, come la input che richiede una stringa, altre o il valore assoluto che richiede il numero di cui vuoi calcolare il valore assoluto, altre richiedono un numero maggiore di parametri e normalmente una funzione restituisce un valore, un risultato, un risultato che poi molto spesso userò dentro un'espressione più complicata oppure lo memorizzo dentro una variabile, quindi la funzione costruisce un valore che poi può essere usato nel contesto in cui la funzione è meno utilizzata. Finora ci siamo sempre messi, quindi dal punto di vista di chi invoca le funzioni, invocare cioè richiamare, utilizzare una funzione, io a un certo punto nel mio programma ho bisogno del lavoro che fa quella funzione, quindi in quella linea del programma chiamo la funzione stessa. Chiamare la funzione non è altro che scrivere il nome della funzione con tra parenti di tonda gli eventuali parametri. La funzione viene eseguita con questi parametri e restituisce un valore che posso utilizzare. In pratica è come se ci fossero due programmi, due parti di programma. Uno è il mio programma che fa delle cose. A un certo punto il mio programma ha bisogno di un aiuto da una parte del programma che non ho scritto io, ma che è incasellata all'interno di un costruzzo che chiamiamo funzione, che serve apposta per definire delle porzioni di programma che possono essere usate o riusate uno o più volte anche da persone diverse, anche da persone diverse rispetto a chi le ha scritto queste funzioni. Quindi quando noi facciamo, usiamo questa istruzione, noi abbiamo calcolato questo numero, 682, abbiamo calcolato questo numero e poi diciamo che dobbiamo fare un arrotondamento e deleghiamo questa operazione a del codice che non abbiamo scritto noi. In questo caso, nel caso della round, è il codice della libri della standard di Python. Quindi è stato scritto da chi è fatto Python. E poi questa funzione che sa effettivamente come procedere per fare questo arrotondamento, poi restituisce un valore al chiamante che sono io, questo è il mio programma. Sulla prima colonna, sulla seconda colonna ci sono istruzioni aggiuntive che vengono eseguite nel contesto del mio programma, ma non ho scritto io. Finora lo sappiamo fare, questa operazione, usando funzioni già definite a livello delle varie librerie, impareremo a costruire anche le nostre. Queste funzioni, oltre a restituire un valore, ricevono dei valori, dei parametri che tecnicamente si chiamano argomenti. Gli argomenti di una funzione sono i valori che specifico nel momento in cui chiamo la funzione. La stessa funzione può essere chiamata più volte e ogni volta con degli argomenti diversi. È il valore corrente. la considerazione chiave è che chi usa la funzione non ha bisogno di conoscere come è stata realizzata, come è stata implementata, ma semplicemente sa qual è lo scopo di quella funzione, arrotondare un numero. Ecco, questo stesso ragionamento lo possiamo fare quando noi costruiremo le nostre funzioni. Una porzione di programma che fa una certa cosa ben definita, facile da spiegare, facile da definire, e che però a chi la utilizza non interessa tanto sapere come è stata realizzata al suo interno. O, per carità, magari chi la utilizza sono sempre io, perché fa sempre parte del mio programma, però ci siamo già accorti che in parti diverse del programma la nostra attenzione, il nostro ragionamento si va a focalizzare su aspetti diversi dell'algoritmo. E allora fa comodo dire, va bene, adesso io mi concentro su fare una certa cosa, che ne so, controllare l'input, lo faccio dentro una funzione e poi quando io stesso userò quella funzione non mi preoccupo più di che cosa fa lì dentro. So solo qual è il suo effetto, il suo risultato è quello di fornirmi ad esempio un input controllato e validato. E quindi mi permetto appunto di fare questo gioco delle due parti in cui in un momento mi occupo di una certa cosa e in un altro momento questa funzione la vedo come una scatola nera che fa delle cose e non spreco energie mentali per ricordarmi, per concentrarmi sui singoli passaggi di ciò che avviene all'interno della funzione. Quindi se vogliamo usare questo nuovo costrutto delle funzioni in modo utile ci conviene provare a pensarlo così, separando i due aspetti di chi la progetta la funzione e chi la utilizza. Allora io qua in questa slide ho semplicemente provato a riassumere con dei colori diversi le varie funzioni che sono presenti nella libreria standard, quelle predefinite, quelle al di fuori di tutti i moduli. Ho provato a scrivere in rosso quelle che abbiamo già usato, in verde quelle che possono essere utili e in giallo quelle che sicuramente incontreremo nelle prossime settimane. Questo solo per quanto riguarda le funzioni predefinite che non hanno, che scopriamo oggi non hanno nulla di speciale, nel senso che noi questi semplicemente sono già presenti nella libreria standard ma noi oggi impariamo a costruire delle altre, quindi in qualche modo impariamo ad espandere quello che è il vocabolario delle funzioni di Python. Poi ovviamente al di là delle funzioni standard ci sono tutte quelle all'interno dei moduli, delle centinaia di moduli, sia quelle che fanno parte della libreria standard, sia quelle che fanno parte dell'ecosistema di Python più in generale di cui avevamo visto il catalogo delle funzioni. ma veniamo a noi. Esempio banale, io voglio costruire una funzione che calcola, in questo caso una cosa semplicissima, il volume di un cubo, perché magari mi serve nel mio programma. Adesso il volume di un cubo è una formuletta di due caratteri, però con la fantasia pensiamo che sia qualcosa di più complicato. Allora, già l'ho definita qua, una funzione che calcola il volume di un cubo. Sto già dicendo a che cosa serve questa funzione. Non sto dicendo che cosa fa o come funziona o quali operazioni. Sto dicendo le caratteristiche del risultato che ottengo quando chiamo questa funzione. E per ottenere questo risultato ovviamente dovrò chiedermi, dovrò dare un nome a questa funzione e dovrò chiedermi quali e quanti argomenti, di quali e quanti argomenti necessita una tale funzione per poter lavorare. Allora, se devo calcolare il volume di un cubo mi serve ad esempio il lato. Qualcuno potrebbe dire, ma sì, però io invece ho la diagonale. E vabbè, allora sarebbe un'altra funzione che calcola il volume del cubo a partire dalla diagonale. Poi dividi per 13 e 3 e trovi il lato. Forse. Però facciamo il caso semplice, conosciamo il lato. Quindi possiamo immaginarci una funzione che si chiama volume del cubo che riceve un parametro, un argomento solo, che rappresenti la lunghezza del lato. In Python creare una funzione da zero, definire una funzione da zero che faccia un certo compito è semplicissimo, basta usare la parola chiave def. Define. Definisci una funzione che si chiama così, tra parentesi, che ha in questo caso un argomento. Due punti. Questi due punti, ormai lo sappiamo, introduce un blocco in Python, quindi a capo dopo questi due punti ci saranno delle istruzioni rientrate, indentate, che costituiranno il blocco della funzione, il corpo della funzione. Quindi come c'è un if due punti, ciò che segue rientrato è il corpo dell'if, ciò che segue rientrato un while è il corpo del while, ciò che segue rientrato un def è il corpo della funzione che stiamo definendo. Il corpo della funzione, cioè le istruzioni che verranno eseguite tutte le volte che questa funzione verrà invocata, verrà utilizzata all'interno di altre parti del programma. Quindi dal punto di vista sintattico è semplicissimo, creo un nuovo blocco con la parola def. Questo parametro che cos'è? È una variabile fittizia. Io nel mio programma avrò una variabile, magari si chiama lato, che contiene il valore del lato da calcolare, ma quando io definisco una funzione non so quale sarà il lato di cui devo calcolare il cubo, non so neanche come si chiamerà la variabile il cui valore rappresenta il lato di cui devo calcolare il cubo, il volume. Ma così come quando scrivo in matematica f di x, quella x in quel momento è una variabile libera, è una variabile che ha senso solamente dentro quella definizione lì, dentro quella funzione, che poi verrà rimpiazzata da qualche cos'altro quando la funzione verrà utilizzata. Adesso qua il meccanismo che c'è in informatica non è astratto come quello della matematica, ma il meccanismo è simile. Qui indico un valore, un nome di una variabile che ha senso solamente, che esiste solamente localmente la funzione, dentro la funzione, che poi quando la funzione viene usata verrà rimpiazzata da un valore effettivo. Allora qual è una possibile implementazione di questa funzione? implementare una funzione significa scrivere un corpo di questa funzione, quindi rientrato sotto il def contenente delle istruzioni che devono essere eseguite per raggiungere lo scopo. Ricordiamoci, noi siamo partiti da qua, calcola il volume di un cubo. Quindi dentro la funzione mi hanno detto guarda che questa è la lunghezza del lato e dentro devo calcolare il volume del cubo, che in questo caso corrisponde semplicemente a fare un calcolo di una potenza, il volume del cubo è la lunghezza del lato elevato al cubo. Dopodiché questa volume è una variabile che ho segnato. Devo in qualche modo dire, immaginate che al posto di un'istruzione ci siano 40, che useranno tante variabili diverse, a un certo punto dovrò dire qual è la variabile che contiene il valore da usare come effettivo risultato dell'intera funzione. Se io ho 37 variabili qual è quella che effettivamente rappresenta il volume? e questo è il compito dell'istruzione che si chiama return. L'istruzione return prende un valore, in questo caso una variabile potrebbe anche essere un'espressione più complicata, e restituisce questo valore come valore di ritorno della funzione. Quindi ci sono due punti in cui la funzione parla col mondo esterno. gli argomenti che riceve il valore di questo lato è il dato che entra nella funzione e viene specificato da chi? Da chi chiamerà la funzione, da chi userà la funzione. È il dato che esce come risultato della funzione che è marcato dalla parola chiave return. Quando io eseguo l'istruzione return viene interrotta l'esecuzione della funzione, e non a caso è quasi sempre l'ultima istruzione che scrivo, e viene restituito al codice chiamante il valore di questa espressione, di questa variabile che ho indicato qua. È il risultato. In italiano, diciamo, viene restituito un valore. A volte, visto che la parola chiave return, a volte scappa di dire, viene ritornato un valore, o a volte viene chiamato il valore di ritorno. Il verbo ritornare non è transitivo, in italiano non si potrebbe usare in questo modo, sarebbe corretto dire restituiamo però un valore, ma ritornare un valore a volte mi scapperà sicuramente di dirlo. Dimmici una domanda. In questo caso specifico, avrei potuto scrivere return a lunghezza del lato alla terza? Assolutamente sì, nel senso che la domanda diceva se io potevo fare direttamente il return e scrivere a fianco del return questa espressione. Sì, perché il return accetta una qualunque espressione. Quindi può essere un'espressione semplice, c'è una singola variabile, oppure un'espressione complessa, complessa a piacere, no? Quindi sicuramente. Quindi in questo caso la variabile volume è una variabile di troppo, no? Opzionale. Ok. E la funzione l'abbiamo scritta, possiamo scriverla facilmente, facciamo un programmino che chiamiamo volume cubo, in cui proviamo proprio a definire una funzione, usiamo lo stesso nome che c'è sulle slide, cube volume, e accetta un parametro che è la lunghezza del lato. Due punti, no? E abbiamo detto che il volume, lo calcoliamo con la lunghezza del lato al cubo, return volume. Ho definito una funzione che mi calcola il volume del cubo. Quando eseguo questo programma, non succede niente. Ma giusto, nel senso che io ho definito una funzione, e ho detto, questa funzione funziona così. Ma non l'ho mai usata questa funzione. Io posso definire 50 funzioni, l'interprete Python le legge, vede che sono definizioni nuove, le mette da parte per quando poi eventualmente serviranno. La funzione viene qua definita, ma non eseguita. Cioè di fatto è come se eseguissimo solamente la prima riga. Definiamo la funzione. E poi se lui si salvasse da parte le righe rimanenti per dire, beh, le eseguirò poi quando me lo chiederai. Quando mi chiederai di usare quella funzione. infatti qua sotto non fa nulla. E per usare la funzione, beh, la devo usare in un certo contesto. Supponiamo che il lato sia 3, allora io calcolerò il volume che mi serve come il volume di un cubo di lato, lato, appunto. E qui sto scrivendo come se facessi un valore assoluto, come se usassi una radice quadrata, una funzione che già conosco. E poi posso dire, ad esempio, che il volume di un cubo di lato, lato, è pari a boll. In questo caso questo programma è fatto di due parti. La definizione di una funzione e altre istruzioni. Quindi, alla fine, in questo programma ci sono quattro istruzioni. La def e queste tre sotto. Ho nascosto il contenuto della def per capire, queste sono le istruzioni che vede il Python. Quando arriva alla riga 7 e trova questa chiamata funzione, quindi il nome di una funzione aperta tonda dei valori come argomenti, allora tornerà su, andrà a vedere cosa avevo definito. non è proprio così, ma la semplifico. Quindi, quando eseguo questo programma, lui stamperà effettivamente che il volume di un cubo di lato 3 è pari a 27. Andiamo a vedere cosa succede passo passo. Proviamo a eseguirlo in modalità debug. Eh, aspetta, lo metto qua il back point. Allora, sì, ho provato a mettere un back point qua sopra, ma questa non essendo un'istruzione eseguibile, non si era farmato. Questa è la prima istruzione vera e propria del programma. Quindi io ho avviato il programma in modalità debug, il debug era attivo, e affermo la riga 6 prima di questa istruzione. Eseguo questa istruzione, vabbè, nulla di speciale, eseguo l'istruzione, l'esecuzione passa all'istruzione successiva e ho definito la variabile lato che mi comparsa qua sotto. Poi secchiamo, se vado ancora avanti, prendiamo ancora una volta questo tasto qua, step over, esegue la riga 7. E dopo aver eseguito la riga 7, per magia, volume uguale a 27. E quindi dopo ci sarà la print che stampa. Quindi ha preso questo lato 3 e ne ha fatto il cubo per ottenere il valore 27. Però com'è successo questa magia? Proviamo a rivederla, come non si fa mai con i trucchi di magia, al rallentatore. Al rallentatore significa che quando io sono alla linea 7 in cui c'è una chiamata di una funzione, in modalità debugger in cui posso andare avanti passo passo, io ho due tastini che posso usare. Questo che viene chiamato step over, che vuol dire vai avanti alla prossima riga saltando l'esecuzione delle funzioni, che è quello che abbiamo fatto. La funzione è stata eseguita, ha calcolato 27, ma noi non abbiamo visto come è successo. Non ci interessava magari sapere cosa facesse la funzione nel dettaglio. Ma se invece ci interessa sapere come lavora la funzione nel dettaglio, usiamo il tasto a fianco che si chiama step into. Cioè fai un passo entrando dentro le eventuali funzioni che ci siano su questa riga. Quindi questi due tastini hanno la stessa funzione età, sempre uno step, un passo avanti, ma nel caso in cui in questo passo ci sia una chiamata di una funzione, io posso scegliere se voglio entrare dentro la funzione oppure semplicemente eseguirla prendendomi il risultato. Allora, visto che cercano di capire, proviamo ad entrare dentro la funzione e in effetti dopo il cursore, ricordate che era sulla riga 7, adesso è saltato sulla riga 2. che è la prima istruzione del corpo della funzione volume del cubo. E è successa una cosa strana. Qua sotto la variabile lato è scomparsa. mentre è comparsa una variabile che si chiama sideland, che guarda caso è l'argomento della funzione stessa. quindi una funzione normalmente non vede le variabili del codice che la usa. E questo è bene. la funzione fa il suo lavoro, non deve andare a ficcare il naso in come io ho chiamato il lato, quanto valeva, eccetera. La funzione lavora sul valore che gli ho passato. A sinistra, non abbiamo mai guardato questa parte qua del debugger, vediamo due, normalmente c'era sempre solo scritto module, che era il programma principale. Adesso sono comparsa due righe. Queste due righe fanno riferimento ai due contesti in cui sono definite delle variabili. Questo è il contesto della funzione, che prima non c'era. quello sotto, se ci clicco, è il contesto del programma principale. Il programma principale nel quale c'è, se evidenzio questo contesto, vedo la variabile lato, ma non vedo la variabile sideland, mentre nel contesto della funzione vedo la variabile sideland, ma non vedo la variabile lato. Quindi ogni funzione, e il programma principale è una funzione in qualche modo implicita, sottintesa, ha un suo contesto, un suo insieme di variabili che può vedere, che può usare, che è separato e disgiunto rispetto alle variabili delle altre funzioni. Questo fornisce un utilissimo isolamento tra le varie variabili delle varie funzioni. Quindi se per caso io qua usassi il nome di una variabile che anche un'altra funzione usa, sono comunque due variabili distinte, non rischio di andare a sporcare il valore di una variabile che viene usata da qualcun'altro. Ok, a questo punto eseguiamo quest'istruzione alla riga 2, è una normalissima espressione aritmetica, e crea la variabile volume. volume uguale side al cubo, vabbè, ha creato la variabile volume. Ho definito una nuova variabile usando l'espressione 27. Non è una sorpresa che questa variabile volume, nel contesto del programma principale, non c'è e non si vede. vive ed esiste solo finché questa funzione è viva ed esistente. Se vado ancora avanti di un passo, sono sull'istruzione cosa? Return. L'istruzione Return quindi conclude l'esecuzione della funzione, quindi in qualche modo mi distruggerà questo contesto della funzione, e però restituisce il valore attuale dell'espressione che è indicata qua. In questo caso l'espressione è semplicemente il nome della variabile volume, il cui valore è 27. Allora questo 27 è ciò che verrà usato qua sotto al posto dell'intera funzione, come risultato dell'invocazione della funzione. Quindi se io vado ancora avanti di un pezzo, vedo che sono uscito dalla funzione QVolume, qua sotto è scomparsa la riga che faceva riferimento alla funzione, non c'è più, la funzione è morta, faccio Return, la sto uccidendo. Ciò che è rimasto vivo della funzione è solamente il suo valore di ritorno, che io adesso qua non vedo, ma vedrò solamente nel momento in cui l'ho salvato dentro la variabile volume. lato uguale 3, volume uguale 27, da quello che avevamo visto prima. Il valore della variabile lato viene copiato nella variabile side length, nell'argomento side length, nel momento in cui viene chiamata la funzione. poi la funzione va avanti indipendentemente, e il valore di ritorno della funzione viene ricopiato nel programma principale e usato in questo caso per segnare vol. questo ci fa anche capire che se io qua cercassi di stampare ad esempio volume, mi dà un errore. la variabile volume non è definita qui perché è definita all'interno della funzione. Quindi nel programma principale le variabili che abbiamo definito sono lato e vol, nella funzione le variabili che abbiamo definito sono side length, che è l'argomento della funzione, in questo caso l'unico, e volume che è una variabile locale si chiama. La chiamiamo la variabile locale proprio perché esiste localmente la funzione stessa, solo lì dentro esiste. e se io volessi richiamare questa funzione più volte, volume 2 uguale cube volume di lato per 2 ad esempio, lo sto calcolando il volume di un lato 3 e di lato 6, e quindi quando arriva la print mi stamperà 27 che è 3 alla terza e 216 che dicono essere 6 alla terza. Cosa ho fatto? Ho richiamato la stessa funzione con un valore diverso. Cosa succede se vado a vedere passo passo il programma? Se vado a vedere passo passo l'esecuzione di questo programma vedo che lato uguale 3. chiamo questa funzione, sappiamo cosa fa, calcola il cubo e lo restituisce perché venga minorizzato in volume. Poi io qui sto richiamando la stessa funzione dove questa volta l'argomento non è più 3 ma è 6, è tutta questa espressione, 3 per 2 è 6. Non è neanche una variabile, è un'espressione aritmetica. Quando io entro nella funzione vedo che sidelength viene inizializzato con il valore 6 che è ovviamente il valore di questa espressione. Quindi ogni volta che la funzione viene chiamata riparte ogni volta da 0 diciamo con i valori degli argomenti ottenuti copiando i valori dei parametri che abbiamo utilizzato. E l'altra cosa che vedo è che in questo contesto della funzione volume non è definito. Questa funzione l'avevamo già usata prima due righe sopra dove avevamo definito la variabile volume ok, come variabile locale. Poi però quando abbiamo fatto return il return ha distrutto tutto e quando richiamo la funzione da 0, cioè non da 0, richiamo la funzione una seconda volta questa non si ricorda le variabili della volta precedente. Ma questo è un bene, siamo contenti che sia così. Perché così ogni volta rifà il suo lavoro senza avere dei rimasugli di valori precedenti che magari non c'entrano niente. Ovviamente quando io farò un passo avanti creerò di nuovo una variabile volume nel contesto di questa funzione dico meglio, nel contesto di questa seconda invocazione della funzione. quindi questo contesto è il contesto della funzione attualmente in esecuzione. Se la chiamo più volte allora ogni volta creerà un contesto separato nuovo. Dimmi. Dove deve stare la definizione di una funzione? Deve stare in una posizione tale per cui alla chiamata della funzione questo nome sia definito. Quindi se io, così come non posso usare lato se non ho prima definito e inizializzato la variabile lato questa funzione non la posso mettere sotto. se la mettessi sotto Python visto che va avanti una riga per volta quando arriva questa riga mi dice senti ma questo nome qua che cos'è? Poi troveremo il modo di farlo perché è molto più elegante se sono in fondo. ma per ora dobbiamo mettere le funzioni definire il nome di una funzione prima che la funzione stessa venga richiamata. Ok. Questo è il meccanismo di base. no? Quindi chiamare la funzione chiamare la funzione chiamare la funzione semplicemente significa usarla con un certo valore e estrarre il risultato. Tenendo sempre presente questa separazione in questa slide il codice è tutto uno tutto unico ma in fase di esecuzione abbiamo proprio come fossero due parti di programma diverse. Uno è il mio codice che a un certo punto chiamo la funzione ma fa altre cose e l'altro è il codice della funzione stessa. Lavorano su variabili diverse. Qui ho messo un numero, una costante per rendere ancora più evidente che la funzione sotto non conosce non potrà mai conoscere la variabile che ho usato qua. Semplicemente riceve una copia del valore. Questo vuol dire che qualunque cosa faccia questa funzione la variabile lato non la potrà mai modificare. Semplicemente perché per lei non esiste. Per lei esiste una variabile che si chiama sidelength che è stata già inizializzata a un certo valore. Se io anche provassi non è bello da fare a modificare questa sidelength , questa modifica non ha nessun effetto sulla variabile lato di partenza perché ho modificato ancora un'altra variabile la variabile sidelength che è una variabile locale della funzione. È una variabile locale speciale perché se è un argomento della funzione viene creata e inizializzata automaticamente. Non devo inizializzarmela io. È buona norma non farlo, no? dentro una funzione f di x non vado a modificare la x la uso, ne uso il suo valore ma in realtà non è vietato semplicemente una variabile locale e qualunque cosa io faccia una variabile locale non potrà mai avere effetto sulle variabili del programma principale. Questa frase ce la rimangeremo la settimana prossima quando passeremo le liste, le funzioni ma per ora non è che ce la rimangiamo ma dovremo spiegarla meglio ma per ora è semplice. Ok. Quindi tutto il meccanismo il funzionamento delle funzioni è essenzialmente un meccanismo di condivisione dei valori. A essere pignoli, quelli che ho chiamato io penso di averli chiamati un po' indifferentemente argomento o parametro della funzione provando a riascoltare ciò che ho detto probabilmente ho usato entrambi i termini tecnicamente hanno due significati diversi tecnicamente un parametro sarebbe side length a volte in alcuni linguaggi lo chiamano anche parametro formale c'è un segno a posto che non ha nessun valore di per sé se non il valore che gli viene segnato quando chiama la funzione. E l'argomento vero e proprio in altri contesti viene chiamato il parametro attuale che contiene il valore calcolato dal programma principale nel momento in cui viene chiamata la funzione stessa. quindi se vogliamo essere precisi distinguiamo il nostro esempio side length è un parametro della funzione e lato cioè 3 e lato per 2 cioè 6 sono gli argomenti che vengono passati alla funzione nelle sue varie invocazioni e ciò che succede è che al momento in cui si invoca una funzione il valore corrente degli argomenti viene usato per inizializzare i parametri della funzione. Detta così non si capisce niente ma è la spiegazione sintetica formale di quello che abbiamo capito nel nostro esempio. vabbè questo l'abbiamo visto già interattivamente. Quindi quando io chiamo una funzione posso chiamarla con una costante come argomento posso usare una variabile come argomento posso usare un'espressione come argomento ma alla fine l'unica cosa che conta è il valore il valore che esce fuori da questa costante da questa variabile perché è come se ci fosse scritto qua sotto, sottinteso tra le righe dentro questi due punti vedete che nel puntino più in basso c'è scritto se ingrandite bene c'è scritto side length uguale 2 uguale a size qua nascosto in questi due punti c'è l'inizializzazione del parametro side length al valore dell'argomento insisto su questo valore perché appunto ci servirà meglio per capire meglio ciò che verrà dopo per ora è abbastanza intuitivo ma l'importante è solo il numero che esce fuori non tanto come ho calcolato questo numero e se noi eseguessimo questo codice su Python Tutor che ci disegna così la funzione fa proprio vedere che il programma principale ha una variabile che si chiama size che vale 7 e la variabile side length punta allo stesso valore ho copiato, ho passato il riferimento al valore side length non ha nessuna relazione con size da queste frecce non posso tornare indietro vanno solo in una direzione proviamolo perché è interessante vedere cosa succede se allora Python Tutor ce l'ho aperto qua incollo questo codice e proviamo a eseguirlo qui succede grosso modo quello che succedeva col debugger lato uguale 3 chiamo la funzione volume e vedete che dentro la funzione questo riquadro qua che mi fa vedere che attualmente è in esecuzione della funzione cube volume c'è definita la variabile side length che è stata già inizializzata con questo valore 3 poi vado avanti calcolo la variabile volume questo valore adesso è accessibile solo dall'interno della funzione e non dal programma principale quando faccio la return Python Tutor mi fa vedere che questo valore 27 viene ricordato come valore di ritorno della funzione che non è una variabile vera è semplicemente una variabile interna di Python e non si è visto ma questo stesso 27 senza spostarsi è stato usato per inizializzare volume non si vede più la parte di sotto perché essendo la funzione terminata è morto tutto e così via la seconda volta ovviamente sarà la stessa cosa con dei numeri diversi ecco quello che volevo farvi vedere cosa succede vedete se qua andassimo a modificare side length così si vede meglio che non nel debugger allora siamo qua abbiamo chiamato la funzione side length uguale a 3 calcolo il volume 27 fin qua tutto bene adesso modifichiamo side length allora stiamo modificando questo 3 mettendo 0 sul posto in realtà no non è vero non stiamo modificando quel 3 stiamo modificando side length assegnando side length un nuovo valore 0 un'assegnazione non va mai a modificare il valore a cui fa riferimento la variabile ma va a fare in modo che quella variabile punti a un nuovo valore sto modificando la variabile non sto modificando il valore e infatti lato tranquillo non si è accorto di nulla lui continua ad avere il suo 3 che essendo un numero intero è un valore immutabile nessuno può cambiare posso cambiare il valore di side length ma non il valore a cui side length punta e questo è quello che ci impedisce impedisce una funzione di modificare anche per errore le variabili del codice chiamante dimmi allora tu vuoi fare una cosa così? ho capito bene? allora mi calcola 0 ovviamente come risultato cioè lui fa questa side length è una variabile come tutte le altre quindi quando arrivo qua è inizializzata 3 ma poi da questo momento in avanti si comporta come una variabile locale della funzione una variabile come tutte le altre se io modifico una variabile la modifico localmente chiaramente e allora userò il valore modificato e il volume 0 al cubo fa 0 e quindi ritorna da 0 quindi è un baco nella mia funzione mentre prima facevo un'operazione inutile adesso faccio un calcolo sbagliato un errore di implementazione ma non succede nulla di strano in ogni caso per evitare i grattacapi o i mal di testa per cercare di pensare a queste cose è buona norma di trattare come se fossero costanti i parametri delle funzioni cioè non modifichiamoli se proprio ci servisse perché dobbiamo farci altre cose questo valore lo copiamo in un'altra variabile locale e poi ciocchiamo quest'altra ma per chiarezza nostra poi in realtà è già una variabile locale privata però se vedo nella funzione scritto questo e poi mi aspetto che dentro il corpo della funzione ci sia quel valore là non che qualcun altro l'abbia riusato perché gli serviva ok e questo è quello che abbiamo appena cercato di fare e abbiamo concluso che è meglio cercare di non modificare i parametri chi usa la funzione non è detto che sappia a prima vista che cosa fa questa funzione q volume cos'è? posso provare a intuirlo dal nome tenete presente che chi usa una funzione non vede il codice contenuto allora quando definisco una funzione è utile spendere due secondi in più per documentare questa funzione così come quando chiamo print siamo abituati che ormai quando ci fermiamo sopra il nome di una funzione PyCharm ci fa vedere la definizione della funzione la spiegazione e ci è servito più volte per capire ma questa funzione qua cosa serve? quali sono i suoi parametri? quali sono le opzioni possibili? mentre invece se vado sopra q volume mi dice q volume è una funzione e beh grazie lo sapevo allora quello che è possibile fare costa poco ed è molto utile è documentare la funzione stessa la cosa più banale è ci metto un commento a fianco subito prima della funzione invece la cosa più carina è quello di costruire una stringa di documentazione cosiddetta docstring cos'è una documentation string? è una stringa fatta con i tripli doppi apici quindi tre apici per aprire e tre apici per chiudere sappiamo che è la sintassi per creare stringhe su più righe ma se una stringa con i tripli doppi apici viene messa subito dopo la def quindi tra il def e il nome della funzione viene usata come documentazione per la funzione stessa quindi se io scrivo qualcosa qua dentro e poi vado col mouse sopra q volume vedete che sotto mi ha scritto questa bellissima frase in giapponese quindi qua dentro posso scrivere la documentazione della funzione in modo che chiunque usi la funzione mentre la scrive possa godere della mia documentazione adesso così chiaramente non è molto ma è possibile strutturare questa documentazione in modo più accurato se voi tra queste doppie stringhe battete invio per andare a capo lui precompila la documentazione con una piccola sintassi che permette di specificare sulla prima riga lo scopo della funzione e sulle righe successive lo scopo dei vari parametri e del valore di ritorno quindi ad esempio io posso scrivere che questa funzione calcola il cubo il volume del volume di un cubo il parametro che riceve l'ingresso è il lato del cubo e il valore di ritorno è il volume calcolato se vado sopra la chiamata la funzione aspetta che qua ho dimenticato di fare una riga vuota in mezzo ecco qua cosa compare sotto alla definizione della funzione c'è scritto proprio la mia documentazione calcola il valore di un cubo i parametri sono side length che è il lato e ritorna il valore calcolato quindi finchè ce l'abbiamo in mente finchè stiamo costruendo una funzione conviene subito scrivere queste tre righe o quattro di documentazione così effettivamente chi usa la funzione mentre scrive il programma non deve andare a tornare su a vedere che cos'era, cosa faceva, cosa serviva quel parametro ma se lo ritrova direttamente addirittura mentre sta scrivendo se io scrivessi tube volume aperta tonda e lui mi fa vedere dovrebbe farmi, no qui come si faceva, non mi ricordo niente a volte mentre scrivi ti suggerisce già non mi ricordo mai come farlo partire ok quindi è importante sia ovviamente scrivere correttamente la funzione ma sia anche dare un po' di documentazione nel libro e sulle slide usa una sintassi basata su commenti ma che poi non è quella che si usa ultimamente nelle versioni recenti di python questa qua con la document string è la versione supportata più di recente in realtà qui dentro ci potete scrivere ciò che volete però se usate queste sintassi lui ve l'ha formatta meglio tra l'altro è stato capace già di estrarre il nome dei parametri da quelli che ho scritto qua sopra quindi conviene prima scrivere la funzione e poi battere questo invio tra la document string vuota così lui ci va a prendere esattamente i parametri che ho usato è una comodità su questo torniamo dopo per definire i parametri variabili o per nome o opzionali ecco l'altra quindi il grosso del lavoro è la definizione dei parametri degli argomenti di una funzione dei parametri di una funzione che verranno poi rimpiazzati degli argomenti al momento della chiamata e poi l'altra metà del lavoro è quello di restituire un valore allora l'istruzione return ha varie forme la forma più semplice è return espressione espressione calcolata come tutte le espressioni così come già stiamo ripetendo dalla prima lezione può essere un'espressione semplice, complicata può avere un valore di tipo stringa un valore di tipo intero, reale, booleano è una qualunque espressione questo valore viene restituito al chiamante e il chiamante cosa se ne fa? dipende da dove è usato quella funzione lo salverà da qualche parte, lo stamperà lo userà in un'espressione ancora più complicata qui c'è scritto che il valore restituito è opzionale è possibile anche non restituire nessun valore è possibile scrivere return senza forse è scritto dopo return senza nulla no vediamo un esempio non è un errore di sintassi scrive return senza nulla in questo caso perché? perché possono esistere delle funzioni che non hanno bisogno di ritornare nulla la funzione print che stampa della roba sullo schermo non sta calcolando nessun valore utile quindi non ha bisogno di restituire un valore al chiamante la funzione input sì deve restituirmi una stringa che è l'input che ha letto quindi ci sono funzioni che per loro natura non hanno bisogno di restituire un valore ma lo stesso si può usare anzi è consigliato usare la restituzione return per indicare che lì è finita la funzione o finito il lavoro di esecuzione della funzione nel caso in cui una funzione non restituisca nulla in realtà viene sempre restituito un valore ma un valore speciale che si chiama niente che si chiama none non è un valore speciale in python che non è un intero non è una stringa non è la stringa che contiene n o n e è un valore speciale che serve proprio a indicare l'assenza di un valore a volte la possiamo indicare per specificare che appunto se, non so, dovessi calcolare un valore che non è possibile con i parametri che ho passato perché devo fare, non so, ci salta fuori la radice del numero negativo posso ritornare questo valore non per dire che il risultato di questa operazione non c'è è un valore speciale che posso usare normalmente si cerca di evitarlo però, come anche valore sentinella per dire ok, ho finito di inserire i dati allora restituisco un none per dire l'utente non ha più voluto inserire un dato successivo o altre cose del genere non è un valore su cui non posso fare nulla ovviamente non posso sommare, sottrarre, fare operazione perché è un non valore però esiste e non dà errori infatti vedete che la documentazione della funzione print ti dice che riceve dei parametri col separatore col fineline eccetera e ritorna il valore niente, non ritorna nessun valore la funzione print non ha bisogno di restituire un valore e quindi nell'implementazione della funzione print c'è scritto un return senza valore stesso adesso il nostro cubo invece serve quindi lo lasciamo quindi noi sappiamo come restituire un valore come restituire nessun valore quindi il return senza nulla e in questo caso ci fa comodo la restruzione return perché la restruzione return oltre a definire il valore di ritorno termina anche la funzione cioè dice adesso la funzione è finita torniamo a eseguire il programma principale normalmente questo lo facciamo come ultima istruzione della funzione ma se è una funzione lunga che ha vari casi particolari magari io conosco già il risultato a metà della funzione allora potrei fare il ritorno direttamente lì così evito se so già il risultato da restituire lo faccio a metà del codice e la metà successiva della funzione non viene pure eseguita viene interrotta di brutto la funzione nel momento in cui segue il return quindi il ritorno ha questi due effetti interrompe l'esecuzione della funzione e torna immediatamente al programma chiamante e nel tornare si porta dietro un valore che può essere un valore singolo che può essere un none nel caso in cui non ci sia nessun valore dimmi mettere un ciclo dentro una funzione è certo che è possibile è possibile qualunque cosa dentro una funzione cicli condizionali altre funzioni anche se noi non lo faremo qualunque cosa posso mettere in un blocco di codice lo posso mettere nel blocco di codice che fa parte del corpo della funzione anzi di solito non si fa una funzione solo per istruzioni semplici nel caso in cui debba restituire più di un valore in realtà non si può ma si può con un trucco è quello di indicare, di restituire in questo caso due valori indicati come coppia di valori separati da una virgola in realtà questo è un trucco sintattico per restituire in realtà un solo valore che a sua volta è una coppia di elementi si chiama tupla in python vedremo meglio quando studieremo le tuple però se ci può far comodo è possibile restituire anche due valori insieme da una funzione per esempio x, y con le coordinate di un punto ma sono casi particolari l'istruzione return può anche comparire più volte guardiamo questa variante della nostra funzione se la lunghezza del lato è minore di 0 ritorna 0, restituisci 0 altrimenti restituisci il lato al cubo in questo caso ci siamo accorti di una condizione anomala se vogliamo chiamarla così del valore dell'argomento e restituiamo un valore diciamo così di errore o valore anomalo non un valore particolare un valore sentinella se invece è maggiore o uguale a 0 allora restituiamo l'effettivo valore quindi il ritorno può essere usato più volte semplicemente quando incontro con l'istruzione la funzione termina e viene restituito questo valore questo può essere un pochino dipende un po' dai gusti un pochino forse meno leggibile rispetto a fare un ritorno unico al fondo e usare i vari rami della funzione in questo caso sono degli if per calcolare il valore che poi alla fine ritornerò restituirò è una questione abbastanza soggettiva di quale delle due forme sia più chiara questa è chiara nel senso che alla fine restituisce un valore tutta la funzione ha lo scopo di calcolare quel valore lo calcolo in un modo o nell'altro a seconda delle condizioni in cui si trova ma poi sono sicuro che la funzione finisce qua nell'altro caso appena trovo un valore lo restituisco e quindi la funzione può finire in punti diversi però alla fine è anche più compatta perché non c'è una variabile di mezzo in più dipende un po' dai casi dimmi c'è un modo per fare un ritorno di più cose da questo che avevamo velocemente visto qua se devo restituire restituisco adesso magari facciamo un esempio allora facciamo un altro esempio che non sia solo il volume del cubo di utilizzo di un programma ad esempio una funzionalità che abbiamo usato molto spesso era quella di leggere dei numeri da tastiera quindi la funzione matematica allora noi possiamo pensare chiamiamo un programma lettura dati di voler leggere dei numeri dell'utente e a volte devo leggere un numero tra 1 e 10 altre volte devo leggere un numero tra 0 e 5 o cose di questo genere quindi ogni volta dovrò controllare il dato inserito verificare che sia valido eccetera eccetera e richiederlo all'utente un po' l'esempio che avevamo già fatto la volta scorsa proviamo a elaborarlo possiamo definire una funzione leggi valore leggi anche solo semplicemente leggi dove gli passo un messaggio da stampare e lei mi restituisce un valore intero ad esempio quindi la versione semplice di questa funzione è semplicemente return input int scusate int input messaggio c'è una funzione che quando la chiamo fa una input del dato che mi serve e me lo restituisce sotto forma di intero quindi io potrò dire x uguale leggi un messaggio che è del tipo che giorno è e lui mi da una x che io posso poi stampare se eseguo questo mi dovrebbe chiedere sotto che giorno è oggi è il 7 schiaccio invio e lui mi stampa 7 quindi ho semplicemente incartato la funzione input cioè non faccio niente di più ma gli ho messo una copertina colorata vedete che scrivere questo e scrivere input direttamente è praticamente la stessa cosa si no c'è una int in mezzo questo ovviamente non fa nulla di più ma adesso possiamo aggiungere qualcosa possiamo aggiungere il fatto che il valore quindi il valore che leggo debba essere compreso tra 1 e 10 o quello che è il range di valori ammessi quindi questo valore non lo ritorno non lo restituisco subito vedete che mi scappa dire non lo ritorno che è sbagliato in italiano il valore lo posso leggere dall'input e poi controllo che se abbiamo detto while facevamo sempre così no? se v è maggiore o uguale a 0 scusate forse minore di 0 or v fosse maggiore di 10 ad esempio dico che il valore è errato e poi lo richiedo e solo quando finirò tutto questo devo restituire v ad esempio qui abbiamo fatto il solito muro fatto con un while non vai avanti finché il valore non è compreso tra 0 e 10 estremi inclusi in questo caso altrimenti ti obbligo a reinserirlo quando superi questo muro vai a eseguire l'istruzione successiva attenzione all'indentazione siamo sempre incolonnati indentati sotto il def restituisco questo valore v che è quello che avrò letto alla riga 2 se è già giusto la prima volta oppure quello che avrò letto alla riga 6 dopo uno o più tentativi errati e quindi il mio programma se inserisco 7 funziona se inserisco invece 90 mi dice che il valore è errato e quindi dovrò per forza inserire un valore meno 1 non gli piace neanche 0 potrebbe piacergli sì perché è tra 0 e 10 però questa funzione mi obbliga o meglio lavora con dei parametri tra 0 e 10 e se mi servisse una input di un valore quindi non è leggi dovrebbe essere leggi da 0 e 10 e se mi servisse invece un'altra funzione che mi legge da 18 a 30 per fare un esempio vicino all'università dovrei farne un'altra? forse no forse uso la stessa funzione ma specifico dei parametri in più quindi questa funzione anziché avere solo un parametro che è il messaggio da stampare potrà avere un secondo parametro che è il valore minimo e un terzo parametro che è il valore massimo e allora questo confronto con la validità lo confronto appunto col valore minimo e il valore massimo tra l'altro è anche più leggibile si capisce meglio cosa sta facendo dammi un dato se questo dato è più piccolo del minimo che ti ho chiesto oppure più grande del massimo che ti ho chiesto non va bene devi richiederlo possiamo anche spiegarlo il valore rato deve essere tra mettiamoci una f string valore minimo valore minimo valore massimo e quindi il giorno del mese sarà tra 1 e 30 31, perdono quindi la funzione leggi adesso avrà bisogno di 3 parametri e quindi se io inserisco che il giorno oggi è il 7 va bene se ne inserisco che oggi fosse il 32 non va bene deve essere tra 1 e 31 ok 31 e va bene quindi io costruisco una funzione che sia sufficientemente generale da potermi considerare i vari poter essere usata in vari casi poi magari mi serve leggere il mese e allora questa volta sarà tra 1 e 12 quindi chiamerò la stessa non la chiamo più x la chiamo g per dire giorno ma chiamo anche il mese anzi dopo m uguale leggi il mese leggiamo il mese questa volta tra 1 e 12 e quindi la data che stamperò sarà la data di oggi che è il giorno barra mese quindi questa cosina qua quando la eseguo la prima cosa che fa chiama la funzione leggi con messaggio giorno valore minimo 1 valore massimo 31 e abbiamo detto che non va bene se io scrivo 90 devo scrivere il 7 e il mese la stessa cosa il 0 non va bene il 13 non va bene andrà bene l'11 e alla fine mi dice che oggi è 7 novembre poi io posso anche migliorare questa funzione se l'utente quando di fronte al giorno batte invio salta fuori un errore e il programma si interrompe allora magari proteggiamo questa funzione da quest'errore se l'utente battesse invio o battesse una stringa che non fosse una stringa numerica vabbè allora diciamo di riprovarci allora vuol dire che non posso fare una int direttamente sull'input ma devo prima leggere l'input ormai lo sappiamo in una variabile la riga che lui ha scritto e poi devo controllare innanzitutto se questa riga è vuota se non è vuota eccetera quindi devo fare tutta una serie di controlli prima dunque ad esempio controllare se ad esempio se riga fosse stringa vuota potrei decidere no no facciamo così while riga diverso la stringa vuota uguale sto sostenendo or via valore minore del valore minimo o via valore del valore massimo quindi te lo richiedo anche se per sbaglio batti un invio attenzione che adesso però ho un problema per cui se io inserisco un valore si arrabbia perché la variabile v non c'è più i v non c'è ma sarà int di riga ho int di riga messo qua e anche qua lo devo modificare sotto e anche qua no scemo cos'è riga qua metto riga e qua metto int di riga perché v non c'è più e quindi riesco a se per caso batto invio non lo prende devo mettere un valore vero ma se invece lui scrive y da di nuovo errore allora noi possiamo immaginarci facilmente che questa funzione si andrà a complicare più la vogliamo fare robusta più aumenteranno questi controlli non mi basterà più semplicemente un ciclo uguale ma avrò bisogno di una serie di if che mi dice se il valore è corretto oppure non è corretto e sulla base di quello decido se ripeterlo o no quindi dovrò probabilmente così come adesso avevo v che era un intero l'ho sostituito con una stringa per poter fare controllo della stringa vuota se io volessi fare controllo di una stringa non vuota ma non numerica non posso più fare inti di riga qui e devo complicare il codice più istruzioni più if più while più variabili locali quindi mi servirà una variabile per la riga come stringa una variabile intera per il valore probabilmente una variabile booleana che mi dice se ho trovato degli errori oppure no se la voglio fare bene ma al chiamante tutto questo non interessa il chiamante chiama una funzione e sa che cosa fa con la funzione e la funzione garantisce che il valore che esce fuori è sempre un valore intero è sempre un valore completo tra quel minimo e quel massimo questa è quella funzione più o meno sofisticata non lo vedo più non mi interessa più l'abbiamo separata e tutte le variabili in più che devo definire dentro questa funzione non si andranno mai a mescolare con le variabili del resto del programma quindi se qua dentro a un certo punto definisco una variabile che si chiama g o che si chiama m che sono tra l'altro dei nomi brutti di variabili perché sono nomi di una lettera sola non dicono nulla ma vabbè anche se lo scrivessi qua dentro non c'è rischio che si confonda con questa g che c'è qua sotto se invece anziché una funzione facessi le stesse cose ma scritte direttamente dentro il programma principale a parte che le dovrei scrivere due volte perché quando leggo il mese devo fare tutti i controlli e poi quando leggo il giorno devo rifare tutti i controlli e devo fare attenzione a sostituire dove c'è 31 dall'altra parte c'è 12 senza sbagliare cosa che non è scontata ma poi avrei tutte le variabili di questo controllo dell'input mescolate tutte le variabili vere del programma principale e non far casino è impossibile quindi da adesso in avanti quando faremo i vari esercizi tenderemo sempre a strutturarli non come un unico blocco di codice ma con tante funzioni come tante funzioni preparano le varie parti ricordate quando facciamo l'esercizio la volta scorsa le volte scorse che dicevamo ok questo programma è fatto di più blocchi questo blocco che cosa riceve l'ingresso cosa bisogna sapere e che cosa calcola in uscita e chi usa questi valori ecco stavamo già ragionando per funzioni per blocchi funzionali almeno adesso abbiamo anche la sintassi per poter realizzare il programma applicando facendo in modo che dentro il codice vengano fatti quei stessi controlli che dicevamo prima dicevamo guarda che il blocco 1 calcola un valore che servirà solo al blocco 4 e gli altri blocchi il 2 e il 3 quel valore non lo devono né vedere né modificare e qui adesso lo sappiamo fare perché basta mettere le varie parti del programma in funzioni diverse e passargli i valori opportuni a ciascuno dei blocchi ok? quindi ci cambia un po' l'approccio con cui facciamo le varie funzioni questa qua attenzione che dobbiamo documentarla quindi adesso se io aggiungo la tripla stringa batto invio questa volta ovviamente la documentazione sarà più lunga perché ho più parametri e quindi mi dirò leggi un valore intero nel intervallo specificato se il valore non ricade nell'intervallo viene chiesto ripetutamente viene richiesto ripetutamente il reinserimento l'intervallo specificato estremi compresi lo scriviamo bene che si capisca il primo parametro è il messaggio poi riga vuota spiegazione della funzione riga vuota e poi c'è tutto il blocco dei parametri il primo parametro del messaggio è il messaggio da stampare come invito all'inserimento come invito all'inserimento il secondo parametro è il valore minimo quindi valore minimo accettabile intero che deve essere un valore intero e l'altro è il valore massimo accettabile come return è il valore inserito all'utente che è garantito essere nell'intervallo richiesto garantito tra virgolette perché la versione attuale non controlla non fa tutti i controlli ma potrebbe crescere diventare e quindi qua andiamo alla funzione leggi la documentazione la vediamo così ovviamente la documentazione è opzionale perché è un commento però aiuta di molto l'utilizzo della funzione e se io cosa succede se mi dimenticassi un argomento dall'anno può essere qualunque non ha un valore minimo non ha un valore massimo vediamo cosa succede 7 11 errore quindi io qua ho chiamato una funzione e ho passato meno parametri meno argomenti rispetto ai parametri che sono stati definiti per quella funzione e lui mi dice me lo spiega per bene leggi alla funzione leggi mancano due argomenti richiesti che sono valore minimo e valore massimo quindi non si può non capire il motivo qui qui non me lo fa vedere non mi segna nessun errore l'editor ma quando vado a eseguire il programma si accorge che nella fase iniziale quando lui deve creare le variabili locali corrispondenti ai parametri della funzione inizializzandoli con i vari valori del programma principale e nel programma principale questi valori non ci sono non sono stati specificati e allora lui non può inizializzare queste variabili e si blocca e dice guarda mancano gli argomenti non mi hai dato gli argomenti con cui poter inizializzare i miei parametri della funzione e quindi la chiamata non va a buon fine perché in questo caso gli argomenti di questa funzione sono tutti argomenti obbligatori è anche possibile definire in una funzione degli argomenti opzionali per cui se l'utente li specifica bene se non li specifica prendono un valore di default automatico semplicemente specificandolo così se io quando definisco i parametri di una funzione aggiungo un valore di inizializzazione allora questo valore viene usato nel momento in cui quel parametro venisse a mancare in questo modo questi due parametri valore minimo e valore massimo sono parametri opzionali e quindi mi dovrebbe richiedere un valore tra 1 e 10 dell'anno vediamo se è vero 7, 11 l'anno vedete che non mi da errore qua io provo ad inserire una cosa che non ha senso tipo 0 e mi dice che questo valore dovrebbe essere tra 1 e 10 quindi in questo caso abbiamo una funzione che può essere chiamata invocata, usata con 3 parametri che è la sua forma normale un messaggio, un valore minimo, un valore massimo oppure con un parametro solo che questo è obbligatorio, non posso perché non c'è un valore di default in questo caso non l'ho specificato e i parametri mancanti sono opzionali perché ho specificato il valore di inizializzazione questo valore, ricordiamoci, viene usato solo se manca il valore vero qui nel primo caso, qui valore massimo uguale a 10 quando qui ho specificato il 31 il valore massimo verrà inizializzato a 31, non a 10 nel secondo caso viene inizializzato a 12 nel terzo caso, poiché l'argomento è mancante viene inizializzato a 10 quindi la sintassi è molto leggera, molto semplice per definire funzioni però ci permette di definirle in modo anche abbastanza sofisticato e quando io ho una funzione che ha più parametri opzionali si possono anche fare cose strane tipo io posso specificare il primo uno dei due parametri e non il secondo diciamo come valore minimo è meno 100 valore massimo non lo specifico e quindi varrà 10 vediamo se è vero mettiamo qualche cosa che sicuramente non va bene tra meno 100 e 10 in questo caso ho specificato alcuni dei valori tutti i valori obbligatori alcuni dei valori opzionali e non altri valori opzionali e come farei se volessi invece specificare il massimo e non il minimo non è che posso dire questo qua non c'è e metto l'altro il massimo magari è 2500 non posso non metterlo vedete che c'è un errore di sintassi le virgole sono messe male qua non può mancare il valore di mezzo io posso se ho dei parametri opzionali li posso lasciare in fondo li posso omettere se sono gli ultimi se non sono gli ultimi c'è un altro trucco che è quello di dare il nome i parametri opzionali si possono specificare o nell'ordine in cui compaiono allora il primo, il secondo, il terzo e quelli che mancano prenderanno un valore di default oppure se voglio specificarne alcuni ma non sono nell'ordine in cui sono dichiarati posso né quando chiamo la funzione specificarne specificare a quale parametro a quale parametro formale è relativo a questo valore quindi in questa funzione ho definito il massimo ma non ho definito il minimo che quindi prenderà il valore di default 7, 11 vedete che in questo caso ha preso come minimo l'1 e ha preso come massimo ciò che gli ho specificato ovviamente nessuno mi vieta di dire entrambi usare la notazione estesa nominale e non posizionale per tutti i parametri opzionali che è anche molto più chiaro nel momento in cui lo scrivo che non so dall'anno 0 all'anno 2500 perché uno qua può sempre chiedersi ma cos'è questo 1 e questo 31 scritto qua è chiarissimo che cosa siano quindi sono tutte varianti sulla stessa sintassi ok? se in una funzione ho solo parametri obbligatori va bene, tutto fila liscio come filava fino a 10 minuti fa se invece in una funzione posso avere i parametri che ci sono o non ci sono e quando non ci sono possono avere un valore di default posso usare la specifica del valore di default qua e il passaggio per nome anziché per valore quando chiamo la funzione quindi quando io dicevo guardate che in questi due punti c'è nascosta l'inizializzazione dei parametri formali della funzione questa inizializzazione prende come primo valore possibile il parametro passato per posizione oppure il parametro passato per nome se c'è oppure il valore di default se c'è e poi la funzione comincia a lavorare sono casistiche che sono spiegate nelle slide quando parla di parametri posizionali e parametri con nome si usano raramente perché si usano solamente se devono usare una funzione che viene usata in tanti modi diversi però è utile soprattutto riconoscerli perché noi chiameremo anzi abbiamo già usato le funzioni chiamate così ricordate quando facciamo print end uguale stringa vuota ci siamo fidati che funzionava così adesso abbiamo capito qual è il meccanismo sottostante queste sono le basi chiaramente mercoledì proviamo a applicarle a qualche esercizio un pochino più serio buona serata